benvenuto in un mio nuovo fantastico allenamento a favore delle tue anche ma non sarà solamente un allenamento per le anche bensì metteremo in relazione le anche con tutto il resto del corpo quindi ci saranno delle sequenze più o meno facili più o meno difficili a favore delle tue anche ma verranno messe alla prova perché comunque creeremo delle meccaniche con la parte superiore del corpo con gli arti superiori quindi fai molta attenzione soprattutto quando ci sarà una parte in cui dovrei lavorare a pancia sotto lì dovrai sempre tenere bene la pancia in dentro se avrai noia alla zona lombare io ti invito a o a ridurre l'intensità del movimento o a smontare l'esercizio o a riposarti al contempo stiamo lavorando sulle anche quindi indirettamente anche pavimento pelvico quindi quella sensazione di controllo degli spinteri come quando vuoi trattenere la pipì deve essere sempre sempre attiva e costante costantemente ombelico in dentro pavimento pelvico sotto controllo trattengo la pipì e respiro profondissimo seguimi anche nei minimi dettagli perché devi cercare di attivare solo le strutture i muscoli che ti servono e cercare di rilasciare e rilassare tutto quanto il resto si comincerà da sdraiati a terra ci saranno delle inclinazioni laterali in cui dovrai usare un pizzico l'addominale in cui dovrai gestire le spalle in cui dovrai cominciare a sentire l'antra e il bacino che sgancia di meno poi passeremo a pancia sotto poi passeremo in ginocchio per allungare i flessori in concomitanza con l'alto superiore e poi in buona lezione completamente rilassati rilassiamo i piedi le anche ginocchia extra ruotiamo un pochino l'alto superiore ma appena accennato porto un mento aperto allontaniamo le spalle dalle orecchie camminiamo con le mani in direzione dei piedi portiamo il mento dolcemente verso il petto iniziamo piano piano a respirare ispiro e cerchiamo di farlo lungo profondo con l'ombelico subito richiamato verso il basso in Espiro es nonprofit ispiro l'ombelico triamato verso la colonna vertebrale respirazione è lunghissima in class . Respiro dedicato, prendo l'aria, respiro, abro, 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 abro le spalle, porto giù di più un po' con la lombare, inespiro, lascio tutto, espiro, abro le spalle, scegli un pochino la lombare, non a volerla appianare completamente, inaspiro, espiro, cominciamo a portare l'attenzione anche al pavimento pelvico, inaspiro, espiro, intraruoto anche a sinistra, piano, 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 la mando verso l'interno, la puntava verso l'interno, e lascio l'inaspiro. Fuori l'aria, intraruoto, l'anca destra, faccio attenzione a non piegare il ginocchio, ma lasciarlo molto tranquillo, e lascio, prendo l'aria. Fuori l'aria, intraruoto, sinistra, intraruoto, rilascio. Fuori l'aria, intraruoto, destra, rilascio, prendo l'aria. Fuori l'aria, intraruoto, sinistra, intraruoto, intraruoto, e lascio, prendo l'aria. Fuori l'aria, intraruoto, destra, rimango con l'anca destra, intraruotata, inizio a disegnare il movimento circolare dell'asso sacco sul tappetino, quindi disegno un cerchietto con il bacino. Uno, due, tre, tutto trattenendo, controllando la bb. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, inverto i pressi del movimento, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, intraruoto anche la sinistra, quindi la destra la lascio intraruotata, intraruoto anche la sinistra, e ricomincio il movimento con il bacino delicato. Uno, due, più piccolino, più specifico, ben fatto, tre, quattro, cinque, inverto subito il verso, quattro, tre, due, uno, lascio le anche intraruotate, mi fermo con il bacino, innespiro, aumento un pochino lo spazio dietro la lombare, mandando il bacino in una leggera antiversione, fuori in aria, accettisco lo spazio che ho appena creato. Innespiro, inarco la lombare. Espiro, accettisco la lombare, la porto giù. inaspiro, inarco. Espiro, la porto giù, risulti o lombare. Inaspiro, inarco. Espiro, scendo giù la lombare, inarco. Espiro, scendo giù la lombare. Inaspiro, inarco. Espiro, scendo giù la lombare. pancia in dentro, non puntare le spalle per scendere con la lombare, le ultime due. Inaspiro. Fuori l'aria, espiro, scendo la lombare, rimango con la lombare più o meno bassa. Ombelico sempre tirato in dentro, controllo la pipì, attivando il piede, neanche sono rimaste interne. Mantenendo queste sensazioni, respiriamo profondi. attenzione, respiriamo, trasfondo di un po' di un'ultima. Inaspiro, sentiamo. Corso, passiamo a un'attenzione, respiriamo, respiriamo, e imponiamo la lombare. l'ultimo l'ultimo l'abbandono le hanche l' manzino l'aspetto picchia l'arbattino lanciare pescatino porto giù, scendo con le braccia in acqua lombare, fuori l'aria, accettisco lombare, salgo un po' di più con le braccia se riesco e ritorno giù, in espiro in acqua, fuori l'aria, scende la lombare, salgo con le braccia un po' di più e ritorno giù, in espiro fuori l'aria, scende la lombare, porto le braccia un po' più indietro, respiro, diventa tutto più veloce, fuori l'aria, sei, e ritorno, respiro, fuori l'aria, sette, gioco con la lombare, si che lavoro le braccia e le scaldo, ma sto giocando con la lombare, otto, salgo le braccia, affiattisco la lombare, ritorno, respiro, fuori l'aria, sette, e ritorno l'ultimo, fuori l'aria, sette, affiattisco la lombare, mantengo le braccia indietro, dove arriviamo, arriviamo, metto al petto, pancia indietro, respiro solamente, e provo piano piano a distendere sempre di più i gomiti, provate ad allungare maggiormente le braccia, ad attaccare tutte e cinque le dita, in spero, e gli ultimi, prendo l'aria, allungo di più, circonduzione di entrambe le spalle dal bipiano, dedicato, uno, due, avendo cura di mantenere la lombare in appoggio, tre, quattro, cinque, sei, sento una bellissima traiettoria circolare delle spalle, sette, otto, nove, dieci, inverto il verso, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, rallento, spingono le braccia ancora più giù, distendo le gambe, piedi uniti, sia a livello di tallone, più o meno, sia a livello di punta, sempre più o meno, arco lombare appianato, mento al petto, cerchiamo di stirare tutta la catena cenefica anteriore, scendendo con la lombare, respiro, un dimento respiro, un dimento respiro, un dimento respiro, allungo un po' di più gli ultimi secondi le gambe le mantengo all'interno ritorno con le braccia le incrocio le posiziono dietro la tasta abbandono apro i gomiti più che posso respiro la lombare è sempre piuttosto appianata vi sollevo un millimetro quel cuovo che è sufficiente per inclinarmi a sinistra piano faccio l'infinazione a sinistra con la parte superiore mi fermo apro i gomiti poggio bene a terra spingo gamba destra ad allungarsi e respiro uno rilasso l'anca faccino a destra riparto con la torsale passo al centro inclino destra e mi fermo apro i gomiti spingo anche a sinistra inspiro lascio uno rilasso al centro due inclino sinistra mi poggio a sinistra subito spingo anche a gamba muoce a destra respiro uno rilasso la spinta due ripasso al centro con la colonna tre inclino destra mi fermo a destra spingo anche a sinistra e poi cerco di ridurre un pochino la lombare e ritorno al centro una passo al centro due inclino di più a sinistra rubo bene i gomiti le spalle spingo anche a destra e lascio uno ripasso al centro due mi ne vado a destra e mi poggio a destra spingo e lascio solo a un ca sinistra uno e lascio fuori l'aria due e lascio fuori l'aria tre e lascio fuori l'aria quattro fai attenzione perché l'anca sinistra tenderà ad aprirsi l'arzo all'esterno sei sette otto nove dieci mantengo la spinta dell'anca sinistra dico con lo spazio dietro la lomba e spino profondissimo uno riduco la spinta della gamba sinistra passo al centro con la dorsale incliniamo a destra spingiamo anche a destra faccino destro rispito profondissimo molliamo la spinta pieghiamo le ginocchia lentamente e ci giriamo subito pancia sotto da qui togliamo le braccia ci giriamo pancia sotto mettiamo le mani sotto la fronte gomiti ben in appoggio completamente rilassata la parte superiore rilasso le spalle rilasso i gomiti pancia in dentro punta del piede in pressione per andare a plantare il tendente un pochino verso il dentro spingiamo una rica per volta come abbiamo fatto proprio uno due comincio a sollevare bene l'ombelico tre quattro cinque sei sette otto nove otto sette sei cinque quattro tre due spingo anche a destra e la sollevo piano la spingo senza sollevare fianco a destra rilasso bene le spalle pancia in dentro se mi da noia la lombare salgo di meno e ritorno giù delicatamente uno spingo anche a sinistra due sollevo alto inferiore sinistro fuori l'aria sollevo sento il ginocchio che si stende e ritorno giù uno spingo anche a destra due la sollevo 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 e ritorno giù due spingo anche a sinistra la sollevo rilasso le spalle e sale anche l'ombelico e ritorno giù uno spingo anche a destra due la sollevo e la lascio su respiro solamente gluteo sinistro contratto coscia sinistra contratta rilasso quello che non mi serve e tiro l'ombelico al soffitto tengo il periodo respiro profondissimo non staccare il fianco spingi la lontana come se volessi toccare una parete lontana via di te uno la riporto in appoggio due spingo anche la sinistra e la sollevo respiro uno la riporto giù allinghiamo tutte e due le braccia a mani di taglio naso che sfiora il tappetino portiamole al massimo spingiamo il dovit e di nuovo spingo un arca per volta sul tappetino uno ad allungarsi due tre risucchia bene l'ombelico quattro cinque sei sette otto nove otto sette spingo un po' di più diventa precisiva la spinta cinque quattro tre due uno spingo anche la destra la sollevo e spingo tutte e due le braccia respiro la spingo immaginatorio di staccarla dentro il bacino uno la riporto giù due spingo sinistra la sollevo ma spingo sempre le braccia un po' di più uno lascio due indietreggio le mani tre mi spingo piano piano solleviamo il bacino solleviamo il bacino veniamo lentamente in quadrupedia mani quindici metti centimetri ad alto le dita in spiro schiaccio mi prendo il sedere una sola ripetizione mi arrotolo mi sbilancio indietro e vengo su porto le braccia la colonna tutta a pezzoloni lascio cadere respiro solamente abbandono tutto cerchiamo di sentire se il peso sotto i datoni è lo stesso destro sinistro se un ginocchio si sta distendendo quanto l'altro se la schiena il collo le spalle braccia è tutto di perone vuoto faccio un bel respiro uno piede delicato due scendo in quadrupedia posizioniamo piede destro in avanti facciamo un buonissimo passo spingiamo al massimo il ginocchio spalle indietro punta del piede sinistro verso l'interno cerco di non avere il peso sulle dita del piede le provo a sollevare la dimostrazione del carico e tutto su tutta l'ordine ammorbidiamo impostiamo bene la posizione rendiamo tutto stabile braccio sinistro articolo come se dovessi fare il torso in piscina piano 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 mi spiro nella prima parte quando passo veci con le orecchie spiro due tre quattro cinque sei sette sette otto nove rimaniamo dietro con una leggera estensione senza esagerare non devo sentire noia da l'ombare torniamo lentamente con il braccio in maniera molto lenta smontiamo la posizione vado verso il dietro lento per non contare quanto appena allungato destro dietro sinistro in avanti lentamente impostiamo la posizione resisti braccio gastro come se dovessi torci in piscina uno due tre quattro cinque sei sette otto nove mantengo l'estensione bene bene facciamo un bel respiro direttissimamente, braccio, gamba, indietreggiamo, incrociamo le gambe, vado in avanti, libero giù nel vuoto, provo da lunghermi con le braccia, lascio vedere la testa e respiro utilizzando le braccia, i fai bene. Sobrando, sobrando, sobrando. Sobrando, 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 sobrando. Sobrando, sobrando. Ritorno su lentamente, raddrizzo schiena in asfero, retroversione indietraggio solo per cambiare il corso delle gambe, richiandare in avanti, diamo il massimo, andiamo in avanti e adesso. Faccio un bel respiro, lentamente, torniamo, raddrizziamo bene schiena, spanno indietro, aperto in fuori, apriamo delicatamente le ginocchia sempre di più, raddrizzo schiena, extra ruoto all'alto superiore, prendo aria, spingo in alto, fuori l'aria scendo, innespiro, e fuori l'aria scendo, l'ultimo in, innespiro, e fuori l'aria scendo. Grazie. Abbiamo fatto una bellissima lezione che andava a favore delle due anche, ma in realtà andava a favore del bacino e zona lombare. Se è stato il tuo gradimento condividila sui tuoi social preferiti, lasciami un like e un commento, magari mi vuoi chiedere qualcosa e ci vediamo al prossimo allenamento. Grazie. Grazie.